e allora eccoci qui al campo di via napoli per il terzo appuntamento stagionale l'ultima partita noi non siamo potuti essere qui col sandola ha perso per 2 a 1 con una rete di dudu tra l'altro è passato in vantaggio per poi farsi rimontare oggi siamo qui però al secondo appuntamento in casa e anche al tuo secondo appuntamento in questo campionato come ci arrivi con che mentalità e con che forma fisica si siamo ancora a 0 punti dopo due partite però erano partite tosse oggi è un po più abbordabile ed è il momento giusto per rialzarsi e per iniziare a fare punti e allora oggi arriva lo junior corticella che nelle prime due partite ha portato a casa due punti due pareggi vediamo oggi come si comporteranno anche gli avversari quali sono però le tue sensazioni per oggi siamo carichi per questa partita è molto importante come detto dobbiamo portare a casa dei punti sicuramente riusciamo a fare di meglio rispetto a come abbiamo iniziato tra l'altro secondo te è anche data la tua assenza di domenica scorsa oggi parti tra i titolari ti senti di giocare oppure c'è anche il rischio che magari possa partire dalla panchina per poi magari subentrare non so del giocatore titolare ma a prescindere il tempo che avrò darò al massimo tra l'altro ho letto un commento di lillo 136 che dice che oggi fare due gol ti riuscirà speriamo ringrazio lillo per la fiducia allora vediamo se fabio oggi riuscirà a segnare passiamo però prima alle domande di antico eccoci fabio anche con le mie domande peccato soprattutto la scorsa giornata dove eravate andati in vantaggio poi avete preso due gol negli ultimi 20 minuti e questo vi ha portato alla sconfitta contro la comacchiese che ricordiamo comunque una candidata alla vittoria del campionato secondo te il gruppo come messo a livello psicologico ha risentito di queste due sconfitte o ripartirà indenne da queste no vabbè comunque erano partite toste poi ovviamente siamo una scuola non promossa quindi la cosa importante è riprenderci e il campionato è ancora lunghissimo quindi abbiamo tutte le carte in regola per realizzarci e fare un bel campionato e allora poco altro da aggiungere andiamo a vedere un po' quello che è il campo dicci le tue vibes all'interno del rettangolo di gioco secondo me l'erba è un po' alta posso dire cioè calpestandolo mi sembra abbastanza alta sì diciamo che vederlo da fuori sembra bello però anche entrandoci vedi che è un po' irregolare ci sono campi molto molto peggiori questo è un lusso un lusso in promozione quando adesso giochi comunque hai degli automatismi che sono del futsal? no sinceramente no sta per il fatto che comunque ho giocato a calcio a 5-6 mesi contro i 14 anni del calcio a 11 poi appena entro in un campo a 11 è tutto diverso sono diversi raccetti è diverso il modo di spostarsi dalla palla al momento penso che mi sta portando più il calcio a 11 nel calcio a 5 facendo gli intandi veramente un po' mi condizionano e con quanto riguarda la porta? cioè il fatto che magari non puoi calciare nella porta e calcio a 5 poi il giorno dopo vai a calciare in quella a 11 anche l'impatto con il pallone come stai subendo questi cambiamenti continui? non ci ho mai fatto troppo caso perché quando entro nel campo a 11 subito sono immerso nelle mie abitudini diciamo in questo campo qua posso piazzare di più con la porta grande però a livello mentale fisico come ti senti? perché quella comunque è una cosa che è molto importante quando giochi cioè molte volte avrei detto prima della partita sto benissimo e molte altre sto malissimo e poi alla fine partita è il contrario quindi non lo so cioè adesso sto bene è molto importante far bene i primi primi tocchi entrare in partita senza sbagliare allora ragazzi visto l'ultima partita dove eravamo effettivamente più bassi ci siamo rialzati abbiamo alzato il cavalletto alla massima dell'estensione possibile praticamente abbiamo inserito uno schermino abbiamo usato la camera il più possibile comando zoom volante e speriamo di guagliarla così e di farvi vedere qualcosina nella maniera migliore possibile o perlomeno migliore rispetto all'ultimo incontro e allora eccoci finalmente nel pre partita della terza giornata del campionato di promozione girone C con Sandolo Junior Corticella si sono sicuramente due squadre che non hanno iniziato benissimo questo campionato lo Junior Corticella ha trovato due soli punti in queste due partite e il con Sandolo invece come sappiamo è ancora fermo a zero vediamo se per oggi riuscirà a dare delle risposte a questo campionato ad ottenere i primi punti e smuovere un po' la classifica assolutamente fra quest'oggi urge avere delle risposte da parte della formazione allenata da Andrea Dirani che non è riuscita a vincere neanche il match scorso contro la Comachiese tanta sfortuna però è andata in vantaggio dopo 45 secondi di gioco Dudu l'ha sbloccata e poi dopo negli ultimi 20 minuti ha preso la doppia rete che è valsa la seconda sconfitta di fila la seconda di questo campionato ma oggi ci aspettiamo delle risposte noi purtroppo non eravamo presenti il match scorso causa problemi personali di Fabio ma oggi siamo tornati e speriamo che Fabio possa avere anche il minutaggio nonostante l'ultima assenza poi c'è anche da dire che più questa squadra non troverà vittorie più sarà facile non trovarne ancora chiaramente è sempre difficile trovare i primi punti specie se si è in una nuova categoria vediamo se il con Sandolo riuscirà anche a sbloccarsi perché poi da lì chissà magari riuscirà anche a trovare la retta via e a trovare sempre i più punti nelle prossime partite eh già partita più abbordabile più alla portata quest'oggi per il con Sandolo arriva lo junior corticella reduce da due pareggi come ricordavi anche tu poco fa 0-0 con l'anzola vino e 1-1 con il casumaro quindi oggi cercherà il terzo risultato utile di fila mentre il con Sandolo cercherà di scacciare la maledizione sì vediamo se ci riuscirà c'è anche da capire Fabio oggi come giocherà se giocherà ci sono diverse descrizioni tattiche le scopriremo dopo vediamo quindi come si comporta il con Sandolo in quella che siccome deve essere la partita per trovare appunto i primi punti stagionali e allora ragazzi abbiamo appena terminato di posizionare tutta l'attrezzatura in nostro possesso teniamo solamente l'ingresso in campo delle due compagini per dare il via a quella che sarà la terza giornata del campionato di promozione girone C Fabio parte dalla panchina non titolare a questo giro ci può stare anche perché nell'ultimo periodo siamo riusciti a essere non troppo presenti all'interno del gruppo squadra detto questo godiamoci questo spettacolo tra l'altro fa caldissimo ci sono oltre 30 gradi e questo sarà un fattore che sicuramente inciderà sul match di oggi oggi quanto finisce per te? oggi finisce 1-1 con gol di Fabri di testa 1-0 secco con Sandolo e allora eccoci finalmente in fase di telecronaca per raccontarvi quella che sarà questa terza giornata del campionato di promozione girone C benvenuti a con Sandolo Junior Corticella si è sicuramente un match molto equilibrato oggi lo Junior Corticella ha tratto due punti nelle prime due gare con Sandolo però è ancora fermo a zero e allora vediamo anche quali sono le scelte di Mr. Di Rani in vista di questa partita troviamo per il con Sandolo lesi in porta difesa a 3 con Trentini, Brandolini, Gaiani a centrocampo dell'Isola, Rimondi, Gberti, Tufa in attacco Gentile Colombani a sostenere Badie dalla parte opposta risponde così Mr. Cavina porta difeso da Mastellari e Tedeschi terzino a destra Daniele a sinistra parentela il centrocampo composta a tre da Quierzoli, Ferrero e Caputo a sostenere il tridente Arbizzani, Sanso e Broglia intanto cenno di intesa tra Gentile e Colombani che attendono solamente il fischio del direttore di gara che arriva ora si parte con Sanso che tocca il suo primo pallone lo gioca all'indietro per Ferrero ancora il possesso da parte del play del Corticella che va a pescare tra le linee Sanso allarga bene il gioco dove trova Arbizzani a destra Gaiani prima dell'undici e poi con la collaborazione di Lesi riesce a ripartire ora spazio davanti a sé Gaiani cerca la profondità direzione Gentili si allaccia con Mastellari calcio di punizione il primo di questo incontro segnalato dal direttore di gara e ora Brandolini allarga il gioco a sinistra dove trova Tuffa lo stop infelice del numero 7 Daniele capisce tutto si rappropria del pallone può anche ripartire Gentili prima di Caputo a mettere in fallo laterale adesso palla lunghissima direzione Arbizzani che cerca la sponda con Caputo Brandolini nella maniera più pragmatica possibile riacquisisce il pallone lo spedisce in fallo laterale il possesso adesso di Ferrero che va proprio da Quersoli ruba il pallone Colombani una palla sanguinolenta persa dal centrocampo del Corticella e ora tempo e spazio davanti a sé ancora Colombani cerca Badie intanto c'è anche un contatto dalla parte opposta ai danni di Rimondi calcio di punizione qui però un po' sciupato questa circostanza Colombani forse avrebbe potuto fare qualcosina in più sul punto di battuta va proprio Tuffa alta altissima sopra attraversa qui avrebbe potuto fare qualcosina in più anche lui si no una grande esecuzione da parte di Tuffa bravo prima Colombani nel possesso nel recupero peccato perché poi non gestisce benissimo la situazione però questo è il lavoro che sa fare Colombani in maniera veramente ottima adesso bella la trama gentili Badie arrivare a Colombani che crossa al centro e qui Quersoli si rifugia in calcio d'angolo Danili prova a ripartire fa fuori Tuffa anche Giberti poi arriva Trentini vince anche un rimpallo il numero 2 del Corticella la palla finisce tra i piedi di Caputo che allarga poi a destra dove arriva il solito Arbizzani che rientra sul mancino e il crossa al centro Trentini sventa la minaccia di testa e si rifugia in out proprio il numero 2 che va ora da Sanso che cerca il dialogo con Caputo che si chiude ora attenzione Sanso si gira fa perno col mancino lesi impresa sicura ottima qui la giocata da parte del bomber del Corticella ma si riparte ancora una volta con Quersoli che ora ha spazio davanti a sé a destra c'è Arbizzani lo vede il numero 4 che prova ora a sprintare proprio Arbizzani Dandi di Gaiani che ora si concede più di qualche lusso in fase difensiva riesce però a cavarsela in maniera pulita quanto bella e trova poi anche Colombani dunque Brandolini tocca uno dei suoi primi palloni anche dell'isola che cerca ora di far ripartire il suo e ancora Colombani allarga a destra dove arriva puntuale Gentili cebadia è tutto solo al centro Gentili il cross lunghissimo calibrato male vediamo se Tufa riuscirà a tenere in campo questo pallone si così è sfida ancora una volta Danieli va al contro cross proprio Tufa messo fuori ora proprio da parentela intanto il numero 11 cerca di allontanare Giberti duro dunque Trentini trivela direzione Colombani che va proprio dal bomber Gentili e arriva il vantaggio del Consandolo al minuto numero 18 Niccolò Jacopo Gentili il primo gol in promozione l'esultanza da parte di tutto il Consandolo si gran gol da parte del Consandolo bravissimo in questa cosa Colombani che riesce a gestire nel migliore dei modi il lancio di Trentini e manda davanti al portiere Gentili che da lì non può sbagliare stoppa e poi punisce il portiere sul primo palo e 1-0 per il Consandolo eh sì collo esterno da parte di Gentili tra l'altro che trafigge il portiere sul proprio palo qui ha qualche responsabilità secondo te Fre? non penso più che altro il tiro è potente e preciso e chiaramente c'è anche da coprire l'altro palo il secondo e quindi in questo caso non ci sono tante colpe per il portiere secondo me intanto abbiamo visto un'apertura incredibile da parte di Gentili a propiziare dell'isola che si porta a casa anche questo calcio d'angolo dalla bandierina si presenta Rimondi che butta l'occhio al centro Gentili viene in contro lascia scorrere per Colombani sul primo palo Garoia è lì e arpiona la sfera nulla da fare per il Consandolo lancio lunghissimo da parte di Quersoli Brandolini la chiusura subroia monumentale poi riparte con la collaborazione di Trentini calcio di punizione affidato i piedi di Ferrero mentre Lesi rispone meticolosamente alla sua barriera scodella al centro il numero 8 che va da Sanso al destro Lesi riesce a parare ma non far uscire questo pallone dunque ancora calcio d'angolo sul punto di battuta troviamo il solito numero 8 del Corticella Gentile allontana la minaccia e la sventa in profondità a cercare di innescare Rimondi chiuso poi da Caputo che si rifugia così in fallo laterale riparte Colombani poi Sanso si va a riprendere il pallone sempre con l'aiuto di Quersoli allarga bene il gioco a destra dove trova Arbizzani lo stop elegante da parte dell'undice ancora col mancino poi cerca un pallone al centro messo fuori ancora una volta da Brandolini dunque riparte ancora una volta il Consandolo con questo possesso recuperato da Dell'Isola che ora sgasa tempo e spazio Dell'Isola gioca la palla al centro per Colombani lo stop il destro di Colombani deviato anche da Badie si perde sul fondo qui occasione sciupata cerca di fare il contrario il corticella con Arbizzani l'uomo mi verrebbe da dire più pericoloso fino a questo momento sicuramente è bella partita da parte di Arbizzani è un giocatore che tecnicamente sta facendo sicuramente conoscere il proprio valore intanto attenzione a Badie si Badie lo sguardo al centro vede Gentili lo va a servire ora Gentili col mancino alta sopra la traversa qui avrebbe avuto anche stoppare il pallone troppa fretta da parte dell'autore del primo gol intanto proprio Badie ancora una volta a cercare Gentili l'azione è praticamente fotocopia quella che abbiamo visto pochi attimi fa e Ferrero va già a innescare nuovamente in profondità Arbizzani ottima la chiusura di Trentini che va da Lesi che sbaglia il rinvio in questo caso ne approfitta Sanso che riacquisisce il possesso della sfera cerca una soluzione non le trova e forza questo passaggio in profondità che poi finisce involontariamente tra i piedi di Broia che ora sfida Gaiani Broia fino in fondo Lesi mette giù la sfera la spegne e fa rifiatare un attimo i suoi ma pochi istanti perché Colombani già riparte con Badie Rimondi attaccato da Ferrero Rimondi fino in fondo gioca la sfera al centro qui ha sbagliato forse a voler rimanere in piedi fino in fondo si non ha fatto forse la certa migliore ma penso che ha perso anche un po' l'equilibrio Rimondi comunque è stato bravo nel guizzo precedente intanto si chiude il primo tempo bella partita 1-0 per il Consandolo risultato comunque meritato e allora eccoci al termine dei primi 45 minuti di gioco il punteggio dice Consandolo 1 Junior Corticella 0 una partita in cui il Consandolo sembra avere il predominio forse la prima in questa stagione sta giocando davvero molto bene peccato perché non è riuscito a chiudere questo incontro già nella prima frazione e ce l'avrebbe potuta fare Sì è un bel primo tempo devo dire che i ritmi sono anche molto alti rispetto alla prima giornata che abbiamo visto le squadre stanno correndo molto coprono bene gli spazi soprattutto il Consandolo occupa bene il campo c'è da dire e secondo me merita di stare avanti nel primo tempo pochi pericoli corsi d'Alesi e finora nulla da dire 1-0 meritato assolutamente peccato magari per qualche circostanza in cui come dicevo prima avrebbe potuto fare qualcosina in più mi viene in mente quella di Gentili soprattutto con il Mancino al volo piuttosto che quella di Rimondi insomma è una squadra che ora sta giocando bene ma deve chiudere questo incontro onde evitare che il Corticella prenda fiducia sì anche perché come stiamo dicendo poi il Consandolo sta giocando una buona partita ed è importante che adesso sia lucido negli ultimi metri perché poi non si sa mai può capitare un'occasione nel calcio lo sappiamo è imprevedibile chissà magari il Corticella può pure trovare lo spazio giusto quindi è importante chiudere la partita vediamo poi anche se Fabio verrà impiegato nel corso del secondo tempo eh sì a proposito di Fabio magari potrebbe entrare per spezzare questa partita secondo te può entrare? secondo me dovrebbe entrare ma principalmente per il tipo di giocatore che è un tipo di campo del genere con questo tipo di caldo mettere in campo un giocatore che è fresco è importante quello che sto notando ora è che c'è tanta libertà di gioco i giocatori prendono palla sulla tre quarti hanno campo e spazio e tempo per puntare così come è successo a Colmane insomma Fabio potrebbe davvero inzupparci il pane in questo senso sì ma anche perché il Corticella secondo me non sta occupando benissimo il campo come sta facendo il Consandolo quindi la differenza appunto anche tattica tra le due squadre che sta facendo vedere il Consandolo come dicevo prima è come possiamo essere tutti d'accordo non merita di stare avanti vediamo se però manterrà il punteggio nel corso del secondo tempo andiamo a vedere dunque tutto pronto per questi secondi 45 minuti di gioco il Consandolo per ipotecare i tre punti e portare a casa la prima vittoria stagionale il Corticella per centrare il terzo risultato utile di fila intanto vediamo l'attacco di Gaiana cercare Gentili capisce tutto la retroguardia del Corticella Arbizzani fa ripartire Querzoli da questi a Caputo che va a servire in profondità Broi attenzione vis-a-vis con Lesi ma viene fischiato ora il fuorigioco Lesi intanto ha parato coi piedi intanto proteste da parte del mister Fabrice Cavina che non ci sta dice che è partito da dietro e ora arriva proprio il direttore di gara ad ammonirlo per proteste ma tutta la panchina del Corticella è fuori bonda per questa decisione andiamo a rivedere dal replay direi nettissimo il fuorigioco tra l'altro l'allenatore in questo caso penso pure sia allineato bene però alla fine giusto interrompere il gioco giusto interrompere l'azione bella segnalazione da parte guardaline anche seppur non particolarmente difficile eh sì era salita bene la difesa del Consandolo in questo caso Brandolini che l'aveva mandato in offside intanto bella la sventagliata di Ferrero a cercare a trovare Sanso che cerca di sgusciare via ottima la chiusura difensiva da parte di Flavio dell'Isola che si porta a casa un calcio di punizione importante intanto vediamo che si sta riscaldando Fabio vediamo quando entrerà in campo Tufa intanto va a servire in profondità Badie che battaglia un po' con Mastellari cerca di tornare dentro da Giberti che guarda al centro Gentili anticipato in questo caso dal numero 14 il mio entrato Celeste Ferrero va dentro da Sanso che trova Arbizzani si gira molto bene Arbizzani a favorire adesso il passaggio in profondità Brandolini senza pensarci due volte va lunghissimo direzione Colombani Celeste lo tocca da dietro si avvicina il direttore di gara cartellino giallo anche per un giocatore di movimento il primo di questa sfida in questo caso è finito nell'albo dei cattivi proprio Celeste che dice non l'ho toccato ma qui sembrava abbastanza evidente il tocco si c'è stato un incrocio di gambe qua abbastanza evidente giusto la munizione anche perché Colombani andava verso la porta giusto interrompere il gioco per la munizione Giverti intanto il sud-destro si infrange sulla barriera Colombani la sponda direzione Rimondi deviato da tedeschi il tentativo da parte del numero 5 intanto Tufa prova a ripartire ottimo il lavoro del numero 7 toccatore dietro attenzione l'arbitro segnala solamente il rinvio dal fondo qui forse potevano esserci gli estremi per il calcio di rigore chissà il direttore di gara era lì a due passi è optato per il far giocare intanto Arbizzani va a lungo in profondità a cercare Broia ancora il numero 10 prova a sprintare su Trentini ottimo il lavoro del 10 che va dentro attenzione dell'isola l'autopalo la traversa clamorosa Lesi riesce a impedire che questo pallone entrasse in porta ma cosa abbiamo visto Raffre si clamoroso anche fortunato qualcunzandolo nella sfortuna Flavio non impatta bene questo pallone la palla carambola sulla traversa Lesi se lo ritrova tra le braccia comunque bravo anche Lesi perché deve girarsi in fretta ritrovare il pallone riesce a trovare subito l'orientamento della sfera adesso intanto dell'isola sull'assist di Giverti dell'isola prova a rifarsi subito con questo destro tenebroso che scheggia la parte alta della traversa intanto rivediamo tutto dal replay si da una traversa all'altra per dell'isola in questo caso conclusione fantastica colpisce la traversa veramente stava per combinare un gol clamoroso si tra l'altro nell'occasione in precedenza è stato molto sfortunato Flavio dell'isola perché la palla gli si alza prima di impattarla intanto Lesi a cercare Badie dalla parte opposta Garoia riesce ora a evitare che Badie possa passare su questo lancio in profondità lancio ancora una volta di Gaiani proprio a servire il numero 10 che è presente su tutti i palloni Badie le finte di corpo cerca di sgusciare via di inventare il fantasista del consandolo la palla messa al centro non ci arriva né Baglietti né Rimondi rimessa dal fondo per il corticella Quersoli Danieli lo stop così e così comunque la palla giunge a Sanso poi Brandolini si va a riprendere la sfera poi il tocco al limite dell'aria calcio di punizione qui se l'è cavata bene il consandolo perché ha rischiato tantissimo Ferrero il destro sulla barriera riparte dunque Giberti che ora attacca a sua volta proprio Caputo si va a riprendere il pallone Giberti prova a servire Baglietti il mio entrato il numero 18 del consandolo la palla finisce tra i piedi di Lesi intanto il dialogo tra Francesco e Fabio riparte il corticella con Broia Mazzoni lo contiene molto bene poi arriva anche Brandolini a dargli una mano e si rifugia in fallo laterale Broia comunque è uno dei più pericolosi nelle file del corticella in questa seconda frazione di gioco ma seguiamo ora Trentini che va a lungo a cercare Baglietti che cerca di tenere vivo questo pallone poi Badie col tacco a servire ancora il 18 intanto Tedeschi gli scaraventa il pallone addosso e si va a prendere questo possesso Rimondi cerca la palla al centro attenzione la scivolata di Tedeschi che stava per impensierire la propria porta ora allontana il capitano Ferrero che va a lunghissimo da Broia l'ha spizzata quasi con la testa seppur presa nella zona della nuca intanto entra ora Fabio Di Mauro al posto di Badie quando mancano all'incirca 12 minuti di gioco al termine di questa partita dunque Lesi va al lancio lunghissimo a favorire proprio l'inserimento del neo entrato Fabio Di Mauro che prolunga di testa e vince il duello con Danieli dunque Baglietti attaccato da Celeste Baglietti cerca di portarsi a casa qualcosa e ce la fa con questo faro laterale guadagnato ma siamo già dalla parte opposta con Ferrero che va a scucchiaiare l'ennesimo pallone della sua partita dentro direzione Celeste che non inquadra lo specchio della porta avrebbe potuto fare qualcosina in più qui il numero 14 intanto Lesi a cercare proprio Fabio Di Mauro pallone lunghissimo non c'è un attimo di respiro col numero 8 che va a servire ancora una volta in profondità gli attaccanti della propria squadra adesso qualche ping pong ne approfitta Giberti ottimo il break offensivo allarga sulla sinistra dove c'è Baglietti c'è Fabio tutto solo al centro Baglietti un po' troppo lento le finte cerca poi di mettersi in proprio con questo destro che non è né un tiro né un cross diventa di facile presa per il portiere Garola intanto lancio lungo Fabio vince un altro possesso in questo caso cerca di gestire la palla sulla pressione di due uomini ancora Fabio Di Mauro il cross messo al centro buona la palla a favorire ancora una volta Baglietti che cerca la rovesciata la sua rovesciata diventa praticamente un passaggio a favorire i mondi e torna ancora una volta all'indietro da Fabio Di Mauro le finite da parte del 17 elegante ancora una volta il possesso ora gioca anche col cronometro quando siamo all'85esimo Fabio Di Mauro torna indietro da Gagliani che la mette al centro non trova nessuno dunque Giverti dal limite non ci pensa due volte calcia sopra la traversa si non ha calciato neanche male in questo caso Giverti si coordina bene peccato perché il tiro finisce alto intanto rivediamo il buon lavoro da parte di Fabio che decide di andare di spalle alla porta non riesce anche a trovare lo spazio per puntarla frontalmente poi bella la palla in mezzo peccato perché in questo caso si coordina anche abbastanza bene non era facile per Baglietti avrebbe potuto fare qualcosina in più qui forse Baglietti intanto ancora la bella giocata riproposta dalla nostra regia con Fabio attaccato riesce a mantenere il possesso peccato che non sia riuscito a effettuare il suo primo assist in promozione intanto Ferrero va lunghissimo ancora una volta Brandolini poi Paone altissima ci sta provando nella maniera più disperata possibile qui il Corticella quando manca ormai pochissimo Garoia va lungo la palla diventa buona proprio per il 18 Paone che cerca di imbucare al centro direzione Broia monumentale qui San Giorgi che riesce ad anticipare il numero 10 intanto Fabio a battagliare con Celeste fallo laterale in favore del Consandolo quando siamo già nell'extra time 5 minuti di recupero ne sono già passati 3 Rimondi attaccato adesso ingenuo l'intervento da parte di Sandri calcio di punizione ed ora il Consandolo può congelare la partita con Rimondi e Di Mauro sul punto di battuta il tocco del 17 per il 5 che torna sempre da Fabio le finte di corpo vuole il centro uno sguardo a favorire Giberti che di prima non trova Rimondi non trova la bandierina il possesso è ancora rosso blu con San Giorgi che va lunghissimo a cercare Giovannini l'anticipo di Tedeschi fischietto in bocca per il direttore di gara che dice che non c'è più tempo game over al Via Napoli primo risultato utile della stagione per il Consandolo che porta a casa tre punti placati d'oro si una bella partita da parte del Consandolo ottima prestazione in generale da parte del gruppo che merita di portare a casa questi tre punti e allora eccoci nel post partita di Consandolo Junior Corticella la notizia del giorno è che il Consandolo è riuscito a portare a casa i suoi primi tre punti della storia in promozione un successo incredibile una squadra che ha giocato veramente veramente bene questo c'è da sottolinearlo soprattutto nel primo tempo dove avrebbe potuto anche ampliare il passivo non l'ha fatto ha rischiato però è finito 1-0 si bella partita da parte del Consandolo devo dire anche bella partita in generale non ci sono stati molti gol però è stata una partita fisica anche a un buon ritmo per me entrambe le squadre non hanno fatto una brutta partita magari si lo Junior Corticella potrebbe fare qualcosa in più in alcune circostanze il secondo tempo è giocato un po' meglio rispetto al primo eh si che poi paradossalmente l'occasione più nitida creata dallo Junior Corticella nel secondo tempo è stata l'autotraversa prodotta da terzino destro del Consandolo se non ricordo male forse Gaiani però si è salvato se l'è scampata anche Lesi l'ha tenuta lì sulla linea e ha archivato il risultato si quella è sicuramente stata la circostanza più pericolosa soprattutto nel secondo tempo poi anche qualche istante dopo c'è stata la traversa invece del Consandolo con il tiro che abbiamo visto sulla fascia destra da parte di Flavio in generale il Consandolo ha fatto una bella partita da grande squadra da squadra compatta sicuramente meriti di portare a casa questa vittoria abbiamo detto anche all'inizio tra l'altro ho preso anche il pronostico 1-0 secco Consandolo eh si l'avevi detto nel pre-partita questo è vero è riuscito comunque a dare il suo contributo alla causa quello che conta anche questi tre punti a dare fiducia morale lo stesso Fabio che negli ultimi anni lo abbiamo visto in contesti non troppo belli si poi tra l'altro sicuramente gli ultimi due anni non sono stati ottimali a livello di calcio a 11 per Fabio e poi ripeto è una vittoria comunque la bella squadra la squadra compatta e i ragazzi lo meritano per me per quello che hanno fatto eccoci quindi con Fabio nel post partita insomma come avevamo anche previsto prima che iniziassi il match non sei partito il titolare scelta che ci sta visto che comunque la scorsa partita non c'eri comunque come è andato è giocato un buono spezzone di gara quarto d'ora come ti sei trovato in quel frangente? no dai mi sono trovato bene sono entrato in una fase della partita in cui era importante gestire non prendere gol quindi magari mi sono un po' più sacrificato ho cercato di difendere il più possibile senza far passare il pallone cercando di togliere un po' le linee di passaggio per me siamo andati bene e siamo riusciti bene a conservare il vantaggio si tra l'altro c'è anche da sottolineare il cambio di modulo da parte del mister 3-4-1-2 praticamente abbiamo visto oggi con Gentili che giocava più alle spalle rispetto a Badi e Colombani insomma questo cambio l'assetto tattico sembra comunque aver portato i suoi frutti si siamo andati bene però penso che l'assetto tattico ha contifichato ad un certo punto infatti abbiamo anche cambiato modulo durante la partita siamo passati dal 4-3-1-2 comunque no a prescindere abbiamo giocato abbastanza bene ed era importante vincere questa partita quindi dai sono molto felice per la squadra allora oggi prima vittoria per il Consandolo in promozione un traguardo direi storico visto che il Consandolo non ha mai militato in questa categoria e oggi soprattutto sei riuscito a ritrovare minuti in campo dopo essere stato poco bene la scorsa settimana non sei stato col gruppo squadra anche durante l'intera settimana nonostante questo un buon quarto d'ora da parte tua sei entrato secondo me in un frangente anche abbastanza delicato perché si tendeva a lanciare più del solito nel primo tempo invece in gestione meglio il Consandolo tu come l'hai vista? si abbiamo fatto un po' di lanci però avevamo un po' di pressione un po' di voglia di vincere che portava ad essere un po' frettolosi soprattutto nel secondo tempo ci siamo affidati abbastanza le lanci lunghi però la cosa importante era mantenere il vantaggio e portarla a casa anche perché comunque era un gran caldo poi gli avversari hanno iniziato a fare più pressione ovviamente durante lo svantaggio eravamo anche un po' frettolosi noi per la voglia di portare a casa questa partita tra l'altro avete sciubato tantissime palle gol questa sarebbe stata una partita che soprattutto nella prima frazione di gioco sarebbe potuta finire con un vantaggio ancora più grande si le occasioni ne abbiamo avute ne hanno avuto anche gli avversari infatti ciò farei complimenti a tutti veramente perché le condizioni non erano facili faccia veramente caldo e niente veramente bravi bravi tutti allora ragazzi noi vi ringraziamo come sempre per aver visto questo video fino alla fine vi ricordiamo di iscrivervi al canale fatemi sentire con il vostro supporto siamo quasi 100.000 iscritti quindi fatelo siamo agli sgoccioli forza ragazzi alla prossima ciao